Salve, io non sono quello che ho pensato, sono un semplice cologramma perché sono morto e questo infatti è un video pre-registrato antecedenzialmente alla mia morte e vabbè, questo non sto mandando, no, che sto mandando al canto, non si fa sentire. Allora, siamo a Milano centrale, tra dieci minuti neanche il treno vorrò andare all'alfino? Lì, vedi domodossola che bello, che bello. Comunque siamo arrivati all'alfino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dai, fai fare a me, palazzo. No, una volta ciascuno e basta. Musicista. Sta andando, Giulio. Come on, Giulio. Eh, dai, su. Bravo. Ah, Giulio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. E' un po' così, venite qua, venite qua, tiratevi via giacca, cappello, tutto. Vi mettete, vi mettete, anche il cappello, vi mettete uno di fronte all'altro, qua, qua, voglio vedere le tre pressioni più veloci del cartomics, siete pronti? Chi ne fa tre? Chi ne fa tre? Ah, anche, anche questa cosa è bella, questa cosa è bella. Possiamo usarlo, possiamo usarlo? Scusa. Quindi, quali sono le regole? Le regole? Sì. Ok, allora, una distanza più o meno uguale, ok? Così? Il primo, dietro il corrente, dietro il corrente qua, ok? Tu sei lì? Allora, chi di voi due si bionda per primo sul cappello, vince. Pronti? Via! Ah, la presa 2, bravo, un applauso, un applauso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.